Ciao, ciao. Com'è andato il weekend? È stato meraviglioso. Dai, raccontami, vieni. E tu che hai fatto nel weekend? Vediamo. Mi sono bagnata nelle acque dei ghiacciai artici mentre il mio amante scalatore mi recitava una poesia. Troienza. In realtà ho aspettato il tecnico del frigo e non è arrivato. Scusa. Ti chiamo dopo. Ok. Il ghiaccio si muove come una donna. Sono vuota, Viti. Che, Melhoff, ma dov'eri finito? A sfidare i limiti del umano spirito. Mi piacerebbe scalare i tuoi capelli, sfidarli. Forse ti posso contattare tramite mio poetico Falcone. Un poetico Falcone. Mi piace. Voi pensate che se gli tirassi una tascia il torta si muoverebbe? Sì. Non lo so. Però, pronto. Ehi, una volta gli ho tirato addirittura un toner addosso. Sì, e si è mosso? No, l'ho mancato. Bella storia. Gran controllo to Major Tom. Can you hear me, Major Tom? Oh! Wow! Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.